Veronica, a un certo punto arriva un tizio, io l'avevo già visto da qualche parte, ti assicuro Veronica, ma non mi ricordo dove. Per 10.000 euro dovrei darti un pene. Ma che sta facendo? Ma questo manda all'aria tutto! Credo di aver ciso un uomo. Devi stare tranquilla Veronica. Ce l'abbiamo letto 40 volte questo giornale, non c'è scritto niente. La prima cosa che mi viene in mente è il traffico di organi. Perché la vede narcotizzata? Non possiamo fare anche l'anestesia in queste condizioni. dove Scenni e veni, casenta mia, camminare e te guarda da quanti vai. Apri l'occhio e me è ghiù pattiato e questo mondo sembrato un uomo, ma poi non si sa mai.